Non hanno mai segnato quindi ovviamente il primo gol di Shevchenko sulla pachina del Genoa quando mai sarà se non stasera sarà sicuramente stasera e ha un sacco di assenze Quindi il Genoa è in una posizione di classifica scomoda perché è al diciottesimo posto una formazione che fa fatica a segnare una formazione con fuori tanti titolari io mi auguro che se stasera non porti a casa i tre punti non puoi fare altro che arrabbiarti con te stesso e fine perché ribadisco guardateli questa è la formazione del Genoa In emergenza totale non ha ancora fatto gol quindi bisogna veramente portare a casa i tre punti Invece questa era Juve, continuità, Scesni, Pellegrini, Chiellini, Delit, Quadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardi, Scribala, Kuluzeschi e Morata 10 su 11 sono identici 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 alla partita che abbiamo visto l'altro giorno con la Salernitana, identici, cambia solo Morata per Moise Ken Questo è l'unico cambio Concentrati, carichi, Juventus Genoa Inizia ora La prima volta Attenzione Il gol di Quadrado Ma da calcio d'angolo Ma è un gol fantastico Meglio dire Koba Meglio dire Koba Meglio diciamo Oglu Ma che gol è Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero La messa nel set dall'altra parte Alla Maradona Ma addio santo il signore Ma che gol è Ma che gol è Ma è un gol storico Mamma mia che bello questo 1-0 per la Juve 1-0 per la Juve Cancia la Noglu Guarda e impara No non ti sei perso niente Se non un gol di Quadrado su calcio d'angolo Che la mette nel set dalla parte opposta Paolo arriva Sì 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 Bravo Berna Bel movimento Bel movimento del Berna Bel movimento del Berna Bel movimento del Berna Bravo Bravo Come fallo Come fallo Buona No pelle era buona Ma anche il giallo gli ha dato E puoi dare giallo Puoi dare giallo su una roba del genere Puoi dare giallo su una cosa così Infatti stavo dicendo Attacchiamo tanto sulla sinistra Dopo anni che attacchiamo solo sulla destra Delitto Non ci credo Non l'abbiamo fatto Non ci credo Non ci credo Come abbiamo fatto a non fare questo gol Come abbiamo fatto a non fare questo gol Cos'è successo? Ma l'ha parata due volte lui Due volte Sirigu Due Sì che roba nostra Sì che roba nostra Bravo Locatelli Transizione positiva importante Morata in area Sirigu ancora Non so se mi fa più arrabbiare Sirigu che ha fatto sta parata O Morata che non ha fatto gol Non so quale delle due mi fa più arrabbiare Alessandro è pronto e potrebbe entrare Esce Pellegrini Per Alessandro Spero che non esca solo perché ha munito Anzi in realtà spero di sì Perché sennò vuol dire che si è fatto male Pellegrini aveva fatto un bel primo tempo Solo Solo Ma vacca boia Questa è la nostra giocata Questa è la nostra giocata migliore Questa è la nostra giocata migliore Porca vacca E qua Alvaro Vai pure Vai pure Boom 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 Cacchio ancora Non la facciamo Non la facciamo sta seconda bolla Bravo Rodrigo Bella partita di Bentancur ragazzi Sì però figa ragazzi Bentancur tra l'altro ha marcato di bala in st'occasione qua E comunque non facciamo gol Cioè non facciamo gol Non facciamo gol Non facciamo gol Non facciamo gol Non facciamo Non facciamo gol Ma porca vacca Ma si possono sbagliare tutti questi gol Ma tutti Oh entra Ken subito Eh Alvaro però Cioè Non ci stanno ste cose Ci stanno Io non ho parole 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 Non ho parole Non ho parole 35 secondi che sei dentro Oh sì Sì E sì Ci voleva questo 2-0 Bravo Bernardeschi Bravo Dybala Sì Ci serviva Sì Alla grande Quanto è importante Questo non ne avete un'idea Quanto è importante Questo gol Non ne avete un'idea Non lo potete proprio capire Quanto è importante Questo gol Madonna Che Che liberazione Che liberazione Se son più leggero Sai che forse Fuori gioco Bernardeschi No rabbio È quello che vi dicevo L'altro giorno Lo accetto Quando sei in vantaggio Il due gol Per difendere il risultato Ma faccio una fatica Ad accettarlo Povero Caio È due ore Che è lì che deve entrare Non esce la palla 5 4 3 2 1 Direttore È finita qui la partita Direttore È finita qui 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 Grazie a tutti